buongiorno dal poligono di testa di lepre faremo un esercizio camminando in avanti cercando di colpire tutte e tre le sacome in un modo un po' veloce, un po' più veloce del solito la pistola sarà 45 ACP 10, la distanza d'inizio circa 12 metri, vado ad eseguire andremo ora a vedere i risultati anche se l'esercizio è stato eseguito troppo velocemente qui i due ci sono, qui ne abbiamo sparati addirittura quattro e qui ne abbiamo sparati altri due esercizio declinamente riuscito, alla prossima performance grazie torniamo al box di esecuzione ci siamo